Potengo davvero un museo che carità, tutto va bene, però quando parlo di diversificazione e ragiono in questi termini, non rendo produttiva una situazione. Io bisogna ai pensi le mie caratteristiche, cosa sono, come sono nato e su questo devo cercare di costruire un progetto per Prato. E poi tu va a vedere che di Prato si è visto solo una parte della medaglia, che è quella della città-fabrica, e su questo è contestabile, alla quale poi hanno appiccicato tutta un'altra serie di iniziative per farla cambiare, alcune più o meno riuscite. Ma sotto questa medaglia, cominciamo a guardare che c'è sotto questa medaglia. Si è pensato all'interporto e si è costruito il discorso dell'interporto da una parte e in questo momento si sta sotterrando una città di 700 anni prima della nascita di Cristo. E' una prima città, la tua antima città d'Europa, nella quale c'è già una formazione di strada, di piazza, agorà, come si può chiamare, c'è una villa di mille metri quadri, che è il doppio di quella di Tarquinio Brisco, che era di 500. Ci sono tredici ettari, c'erano perché una parte è Marbelleiti, tredici ettari di possibilità di fare un parco archeologico e che l'intenzione e il progetto è quello di coprirlo sul consiglio delle belle arti, di coprirlo di terra e sopra mettici dei pannelli fotovoltaici per proteggerlo. Ora, questo è un parco archeologico, può sopra purtroppo del comune di Calenzano, ma sopra lì c'è già degli insediamenti d'età bronzea e c'è tutto un percorso, tutta una serie di attrattive archeologiche fino ad arrivare a Riavuti. Ma lasciamo fare un me ne frega nulla della cultura etrusca o bronzea o quello che è, ma solo un camminamento e mi porta a Riavuti dalla Calvana mi sembra una cosa difficilmente trovabile da qualsiasi altra parte del mondo. Ieri pomeriggio andava a Giampa, dicevo, da Ghetto, nato con tutta una serie, vabbè lasciamo perdere se no vi prendo troppo tempo, di fatto lì sono circa 72.024 dove c'è un progetto di recupero e ha messo a disposizione del pubblico e che cos'è oggi? Un dormitorio perché sotto il conto c'è pieno di gente a dormire, di prostituzione perché gli va tutte le prostitute. Il problema dell'adescamento di minori eccetera. L'hanno fatto una barriera, hanno fatto una specie di rete per metà al lago, si chiede come se dall'altra parte possano entrare tranquillamente e mi domando io, ma se io c'ho confine, poi c'ho questo discorso del lago, poi c'ho le rive del Bisenza, che lo so se vuoi, lo avete un attimo in mente, quante cose se io ripulissi Bisenza per più si va dalla terra alluvionale dopo aver fatto le dighe, praticamente deve diventare un pantano possibile, è una delle piazze più grandi d'Europa e sono qui arrivate nel parcheggio o non parcheggio, alberi e non alberi, invece di pensare la può diventare un'attrattiva a carattere mondiale, mondiale, perché queste cose non ci sono da tutte le parti. E andare a finire alle Ascinei Tavola, il mio papo c'è andata alle Ascinei Tavola perché suo padre, mio nonno, era vicefattore laggiù. Poi morì, e in sempre tempo non c'erano le protelle sindacali, spesso un po' che mi fiorta, la famiglia passò tutta a mano, e si andò a abitare via, però lì l'infanzia poi si tornava spesso via alle Ascinei Tavola, quando tutti i canali li erano irrigati, c'erano dei pesci alla fine del mondo, un'acqua meravigliosa. Se uno pensa al discorso delle Ascinei Tavola e le recupera, a bene pubblico, cioè all'utilizzo di quello che dovrebbe essere, come dire, la possibilità di tempo libero, di andare a cavallare, perché anche l'edificio storico della Fattoria è una meraviglia. Allora, di fronte a queste cose, di questo genere, che sa da mediare alle Ascinei a Firenze? Che cosa ci manca per poter dire, prendiamo queste cose, per non parlare del centro storico? dove ci si permette di parlare di età, di grado, e poi l'amministrazione pubblica tiene quindici anni il museo civico chiuso. Sì, ma per tanto facciamogli lo sconto, cambia di molto. E tutto il resto, ma perché le strade commerciali via via diminuiscano? Perché, certo, i negozi chiudono, perché un centro attiva. Ci si lamenta che è stato fatto centri commerciali, è vero, ma ci sono. Stato trovato mille scuse per aprirli. Ma mi domando, centri commerciali spesso li fanno a imitazione delle città e cercano di avere la stessa attività di una città, invece noi cosa si fa? Si degrada il centro storico e si apre centri commerciali. Cioè si fa addirittura all'inverso di quello che è. Guardiamo l'amministrazione della nostra città, il senso di comune e provincia. Allora, amministrazione del comune. Che cosa si può immaginare se funziona tutta la rovescia? E cioè, se il potere dei dirigenti è superiore al potere degli assessori. Un assessore si è andato a fare qualcosa da andare a bussare a un dirigente. E se si pensa alle partecipate, per via della potenza finanziaria, se fatto, comandano più le partecipate del comune. Siamo arrivati a un punto tale che se tu vuoi poter essere assunto, poter avere dei servizi, poter cos'è, tu conosci qualcuno, oppure c'è una diversità di trattamento tra chi ha una tessera o chi non ha, chi non ha un orientamento politico e non ce l'ha. E questi che devono essere razzisti. Quale è il comportamento più discriminatorio in non selezionare il funzione per un'opinione politica? Guardate, parlando di democrazia, ma queste sono cose forche. Cioè, essere discriminato perché non la pensi o non la pensi o non la pensi o non la pensi? Noi parlano sempre di ideologia. Guardate, nei problemi del comune e dell'amministrazione della città, di destra e di sinistra, non c'è nulla. C'è solo problema e volontà risolvere questi problemi. Ci può essere dei metodi diversi per risolverlo, ma non c'entra nulla destra, sinistra o destra. C'entra solamente il buon senso che può venire a secondo le situazioni e la libertà mentale di scegliere. Io su questo ringrazio tutti coloro che sono venuti a darmi una mano e credo sia una coincidenza che ti abbiano offerto a me di partecipare a essere candidato a sindaco, perché di solito si fanno a volte tra partiti a... anzi, provincia gli è successo, purtroppo. No, me ne dispiace perché molto probabilmente si perde un'occasione anche quella. Non che loro gli abbiano fatto medio tra provincia e comune, perché non hanno mai operato in coordinamento. In tante iniziative, anzi, si sono guardati. Lo fa il comune, allora fa un'altra cosa. Perché sotto questo aspetto non c'è stato nessun coordinamento. Però mi sarebbe piaciuto poter cogliere l'occasione anche, speriamo che comunque succeda, che ci sia maggior collaborazione tra provincia e comune. Anche perché ci sono dei problemi grossi, se ne parlava prima un Sara in altre occasioni, e cioè quella dei rifiuti. Perché guardate, voi, i cittadini in generale vedano alcune minacce perché le sono evidenti. Cioè per taluni, caso delle lavoratorie estracomunitari, in particolar modo, cinesi, ci rimane più impresso o le asseccare, o le pepele sgozzate, o le insegne cinesi, o gli sputacchi per terra, o i rifiuti e le città nella porta accanto. Tutti quei fattori evidenti. Però guardate, su questo discorso della comunità cinese, quello che fa più paura a chi ha la responsabilità di un'amministrazione comunale, ed è invece il discorso dei flussi finanziari che arrivano. Perché questi riescano a fare qualcosa con i 500 milioni d'euro di rimessi all'anno. E non è un anno che dice basta, ne è da anni che succede in questa maniera. In più a quei 500 milioni d'euro che mandano via perché sono censiti, tutti i soldi che viene sequestrato agli aeroporti, né cioccolatini, né dopo di Pasqua, né giocattoli. E in più tutti i vendi che spendono qui. E tutti i vendi che hanno il pinotolo di carta e vanno a giro a fare le diverse cose. Ma questa massa di soldi, ma come di fare a arrivare dall'economia e trattano dei prodotti che hanno ammazzato tutti? Va bene non pagare gli operati, va bene il discorso un pagolino e il compagnia bella, ma se non si facesse ugualmente non ci sarebbero le gambe qua. E allora di dove cavolo arrivano questi soldi? Il problema è che con questa capacità finanziaria è dall'altra parte un distretto che per la situazione generale va giù. Come si fa a contrastare? Chi comanderà tra qualche anno? Chi ci comprerà? E tanto dai macronotto zero.